Ciao a BetTest.it, sono andato fuori di testa per Seven Sisters, voi lo vedrete fra poco in sala, noi l'abbiamo visto un pochino prima rispetto a voi qui al 35esima edizione del Torino Film Festival TFF. Seven Sisters è un film di fantascienza strepitoso, Raffaella De Laurentiis in produzione, Giannetto De Rossi in make-up, Giannetto De Rossi mitico per gli horror di Fulci, Zombie 2, Tommy Wirkola con gli zombie ha qualcosa che fa, il regista norvegese classe 1979, mi sta simpaticissimo, Tommy è una specie di piccolo Terry Gilliam, è una specie di piccolo Sam Raimi, infatti è bello che abbia incontrato Giannetto De Rossi come fu bello che incontrò Giannetto De Rossi un giovanissimo Alexandra già per lo splendido alta tensione con Cécile De France, e vedete come alla fine poi nel cinema veramente non esistono le coincidenze, perché questo è veramente un regista figlio di Raimi e figlio di Gilliam, c'è qualcosa in lui di spettacolare e anche autolesionista. Alla Dezno è una piccola saga geniale con gli zombie nazisti, in Norvegia lo fece diventare famoso, poi arrivò all'elicottero, sapete che succede sempre così, arrivò all'elicottero con le persone vestite di nero, gli hollywoodiani con le valigette che ti arrivano, apro la valigetta, ci sono milioni di dollari, ti prendono dalla Norvegia o dovunque ti trovi, dalla Svezia e poi ti portano via. Infatti Tommy adesso vive a Los Angeles e Wirkola è fichissimo, perché dopo aver fatto questa saga di grande successo in Norvegia che ha portato Hollywood a succhiarlo, poi ha fatto un Ansel e Gretel bruttissimo, ma un Ansel e Gretel bruttissimo come l'avrebbe potuto fare bruttissimo Raimi, Gilliam, comunque con una grande simpatia, con Jeremy Renner e Gemma Arterton, un film che comunque a livello mondiale ha fatto qualcosa, quindi Tommy è ancora vivo e combatte con noi e questo film è una follia, va bene, si chiama What Happened to Monday in originale, Seven Sisters, perché What Happened to Monday, ma che lo puoi intitolare così per il mercato italiano, Seven Sisters per il mercato italiano, esce in sala adesso, noi l'abbiamo visto qui a Torino, in anteprima italiana, è divertentissimo, c'è Numi Rapace, io preferisco chiamarla Rapace, perché in questo film la grande Numi è proprio Rapace, se lo prende, se lo magna e se lo porta a casa, perché? Perché lei è sette donne, va bene, a me già mi piacciono i film con Numi Rapace quando è da sola, se tu mi dai un film con sette Numi Rapace, beh io vado fuori di testa, io per questa attrice provo proprio un'attrazione intellettuale, fisica, spirituale, è l'unica Lisbeth Salander della storia del cinema, va bene, quell'altra se la scorda, è Runei Mara, con tutto il rispetto, se la scorda, quindi è diventata una star, come sapete, questa attrice svedese con Uomini che odiano le donne, originale, bellissimo, splendido film, beh, poi lo sapete, ha fatto anche, ha lavorato negli Stati Uniti d'America con Alterne Fortune, ha lavorato per Ridley Scott, dentro Prometheus, e adesso in questo film fa, in un futuro distopico, dove c'è sempre William Defoe però, come appunto è la settimana pure di William Defoe, che lo sapete non ci molla mai, è onnipresente, sta anche in Assassino sull'Event Express, versione di Kenneth Branagh, in questo futuro distopico non si possono più far figli, perché? Perché hanno ragione tutti quelli che dicono del sovrappopolamento del pianeta Terra, c'è sta troppa gente, quindi bisogna tagliare, allora Downsizing, Alexander Payne, fra poco lo vedrete, geniale, ci miniaturizziamo, altri film invece, Inferno, Kingsman, ci fanno fuori direttamente tutti, c'è qualcuno che dice no, c'è troppa gente, via ciao, invece in questo film appunto c'è troppa gente, non ci stanno più le risorse, allora non dobbiamo più fare figli, va bene, un figlio, la legge del figlio unico, il problema è che qualcuno però ha fatto queste sette gemelle, perché poi con quei casini dell'inquinamento, con i casini dei disastri ambientali, i parti gemellari sono all'ordine del giorno, là sette, sono sette, che fai, le ammazzi? No, allora a quel punto vivono tutte in un appartamento, va bene, si danno i giorni della settimana, geniale come idea, si danno i giorni della settimana, e poi il giorno, tu sei lunedì, tu sei martedì, tu sei venerdì, no, non è Robinson Crusoe, ma tu sei sabato, tu sei domenica, tu esci la domenica, va bene, però sei sempre una, alla Karen, è l'identità con la quale queste devono deambulare, poi si truccano così, in casetta mantengono ognuna l'identità sua, va bene, c'è la freak, c'è quella che c'è la grande scopatrice, però forse, magari è una bufana, non lo so, c'è quella responsabile, c'è quella violenta, no, che è la numi rapace, è la numi rapace che io preferisco, quella che appunto anche quando Lisbeth mena, che mi eccita tantissimo, poi c'è la Karen, la Karen studiosa, insomma, allora, se vi piace questa attrice, come piace un pochino a me, se non so se si è capito, è il film per voi, perché ci sono sette numi, sette numi, i numi tutelari, quindi c'è solo che qualcuno potrebbe sgamarla, in questo futuro distopico, dove tutto fa schifo, un po' appunto un futuro Brasil, tanto per rimanere in tema di maestro di Tommy Wirkola, qualcuno potrebbe scoprirla, e che succede? Allora, è un film pieno di liquidi, infatti sembra un film veramente degli anni 80, e da qui vediamo Tommy da dove viene, c'è Giannetto De Rossi nel make-up, nel trucco, e si sente appunto questa cosa che appunto non c'è nel cinema secco e arido, di tanto cinema che vedo adesso, dove non si suda mai, invece è un film pieno, c'è una scena in cui numi la pace gli accade il mociolo, è piena di sangue, è proprio, è gocciola, va bene, è gocciola, sembra veramente un Walter Hill degli anni 80, è caldissimo, dove questi sudano, c'è acqua ovunque, è un film molto liquido, a me piacciono i film così, perché mi ricordano di quando ero giovane e vedevo un altro cinema rispetto a quello di oggi, tutto asettico e represso, e invece è un film molto libero, ok? Infatti c'è sesso, e c'è anche Glenn Close, e c'è Numi Rapace, che rapace, predatoria, arriva, se prende sto film, se lo magna, se lo porta a casa, e vabbè, insomma, all'ennesima potenza Numi in questo film, veramente, 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 veramente fico, ci so dei difetti, ma è quello squilibrio come Gilliam, come Remy, che va sempre bene, almeno per me, ok? Seven Sisters, fantascienza distopica, sette Numi Rapace, ciao Betteisto!